Era una notte buia e tempestosa quando si mise a fare la recensione del Derry Lang Racconti dal Derry Lang numero 3 della Bugs Comics Wabalaba dab dab e bentornati su Nomama Mazzo Bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica Samuel Sterna Torniamo a parlare dello spin-off dedicato apparentemente ad Angus Derry Lang e al suo circolo Le Orla Ma anche fondamentalmente alla ristampa e alla reimpaginazione dei racconti da fumetteria Della Bugs Comics, della saga Monsteri Racconti che per me sono comunque inediti e quindi me li sto godendo molto 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 sugli racconti del Derry Lang Prima di cominciare vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video E anche a tutti gli altri che vi prega di condividere il video con tutte le persone che fanno parte di un circolo letterario E di commentare qui sotto con quello che viene apparso di questo numero O in generale del Derry Lang o di Samuel Sterna Fatemi sapere, iscrivitemi anche sugli altri miei social tra cui Instagram e Twitch Ovviamente è molto 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 duro a parlare di 10 racconti in pochissimo tempo Quindi diamo una rapida scorsa a tutti Mi è piaciuto molto quello in cui intrappola fondamentalmente l'arte, la vita eterna la intrappola dipingendo col sangue Un po' da Orion Gray mi è piaciuto molto questa prima storia che ha aperto l'albo La seconda storia se non sbaglio era quella degli amichetti che scoprono il Chupacabra e ne vengono divorati Adoro la criptozoologia quindi va benissimo mi piace che ne abbiano parlato Ovviamente il difetto di tutte queste storie è anche il loro pregio ovvero che sono davvero davvero corte Ne vorrei, ne vorrei tantissimo di più in particolare di un paio di storie La Fatina che altro non si rivela una sorta di goblin che va a stanare i predatori sessuali Tra l'altro organizzando una sorta di caccia al tesoro infernale con altre squadre di bambini infernali Che vanno a stanare invece magari gli assassini eccetera eccetera è una di quelle che più mi è entrata nel cuore Vorrei, cazzo vorrei una miniserie su una cosa del genere Il terzo, la terza storia, quella dell'informatore che diventa la conoscenza mi ha davvero inquietato Una roba molto surrealista Quella invece dello spazio diciamo mi sarebbe piaciuto che fosse finita in mille altri modi diversi Proprio per vedere gli effetti di questo strano parassita di Plutone, di Urano non ricordo Ma anche questo strano incidente dovuto, non lo so, diciamo alla premura di un astronauta Di sistemare le ossa dell'astronauta che è rimasto coinvolto nell'incidente separatamente da questo liquido Hanno causato questa roba stranissima Mi ha ricordato la puntata di Griffin del disossato E anche di questo numero mi sarebbe piaciuto vederne ancora di più Vedere magari come poteva andare avanti un essere di questo tipo Oppure, non lo so, mi sarebbe piaciuto vedere che componeva le ossa in modo diverso E usciva uno strano mostro Ne avrei voluto di più anche di questo Poi andando avanti, il bambino che fa amicizia col Babao mi è piaciuto tantissimo Il fatto che appunto un bambino non abbia paura dei mostri Ma ci faccia amicizia È una bella trama C'è un plot twist nel plot twist Cioè che il papà del Babao alla fine si mangia il bambino senza troppi complimenti Questa cosa è una di quelle cose che ti fa saltare sulla sedia E l'ho gradita molto La storia sugli indiani E chiaramente doveva andare a toccare un po' la vendetta Di quello che l'uomo bianco ha fatto alle terre dei nativi americani E era previsto Ma dal punto di vista grafico Questa cosa che si trasforma Mi ha ricordato un po' i film di Cronenberg Così L'ho apprezzata L'ho apprezzata perché Non è solito vedere un western così horror Poi Diciamo l'agenzia che insegna gli esorcismi Mi è piaciuto un sacco Potrebbe essere tranquillamente Che ne so Ambientata in un ipotetico futuro Dove Samuel Stern Duncan L'agenzia Hanno dato via appunto a questa scuola Per diventare esorcisti Di tutte le religioni E quindi potrebbe essere anche ambientata nel futuro L'hanno messa come racconto Ma è molto interessante Pensare che possa andare così Nel mondo di Samuel Stern In futuro Allora Sto leggendo un po' in fra Poi la storia del cagnolina Del cagnolino breve Abbastanza scontata Ma non di meno Comunque interessante È sempre bello vedere Uno stronzo Che ha quello che si merita Cosa che purtroppo Nella vita reale Non sempre abbiamo modo di vedere E devo dire che in generale Queste storie Mi sono molto piaciute Ma Una cosa che invece È inedita In questa serie di racconti È proprio la cornice Che gli si dà Che è appunto il circolo Le Hor L'abbiamo già avuto in passato Delle guest star Come si fa in televisione Da una serie spin off Arrivano dei personaggi Della serie principale Appunto per Suscitare maggior interesse Appunto Da parte dei fan Della serie principale Abbiamo già visto In un altro numero Che veniva Duncan In questo numero È venuto Il protagonista È venuto proprio Samuel Stern Perché è venuto Per una cosa Che un po' tutti Sospettavamo Io l'avevo già Accennata Nei numeri scorsi Secondo me La signora Peabody Se non sbaglio Non ricordo il nome La signora Peabody Potrebbe avere una presenza Potrebbe avere un'ombra All'interno E Samuel Finalmente Ce lo ha confermato Mano a mano Che i racconti Andavano avanti Si capiva Come questa sorella Tanto narrata Tanto nominata Da questa Anziana signora Altro non fosse Che l'ombra Della signora E Samuel ce lo ha Confermato Però appunto Siamo in Post abisco E quindi Non è detto Che Samuel Faccia qualcosa Io voglio vedere Se appunto Nel circolo La cosa andrà avanti Tranquillamente Oppure Non lo so A un certo punto Le cose Si metteranno male Magari Quest'ombra Crescerà Diventerà Ingestibile E a quel punto Potrebbe intervenire Samuel Non lo so Ma Insomma Mi piacerebbe Che riprendessero Più avanti Questo discorso Non subito Ma tanto La Bags Fa così Quindi Ci centellina Le cose E poi magari Le riprende Molto più avanti Mi è piaciuto Anche vedere Questo strano Triangolo Amoroso Tra Il ragazzo Adesso non ricordo Il ragazzo Il teppistello Sharon E Samuel Stern Sharon è Attratta da Samuel Stern Samuel Stern Ovviamente La rifiuta Uno perché Penso che dopo Valery Non ne voglia più Sapere Di spasimanti Due perché Lui ha capito Invece che Il ragazzino È attratto Da Sharon E ovviamente Non vuole Certo andare A rovinare La piazza In questo modo E Mi è anche piaciuto Questo Questa scelta Di Samuel Vedremo come Si svilupperanno Appunto anche Gli intrecci Relazionali Tra i personaggi Bene Fatemi sapere Voi cosa ne pensate Di questo numero A me è entusiasmato Devo dire Adoro leggere Il Daryling Ancora più Che Samuel Stern A notte fonda Non ho avuto occasione Di leggerlo A notte fonda Come speravo Alcune storie L'ho lette di giorno E devo dire Che perdono un po' Questa Questa atmosfera No Questa atmosfera Horror Mi piacerebbe Leggerli tutti Ad Halloween Tutti a ottobre Questi racconti Diciamo che Il sole torrido Il caldo Anticipato di maggio Non hanno aiutato A godersi Questa atmosfera Dark Ma ciò nonostante L'ho apprezzato Veramente Io come sempre Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a qui E con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Vi dico anche Che questa sera Alle 21.30 Circa sarò ospite Di Alessandro Giangiuli In un live Su Youtube In cui Faremo la reaction Al secondo Trailer Di Thor Love and Thunder Non mancate Io sarò di là Passate a salutare Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.